A distanza di oltre 15 anni potrebbe emergere un'altra verità sul Francesco Padre, il moto peschereccio inabissato con a bordo 5 marittimi molfettesi, morti il 4 novembre 1994 a 20 miglia dal Montenegro. La procura di Trani ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di riaprire l'inchiesta sull'affondamento del moto peschereccio, distrutto ed affondato da un'esplosione. Nonostante l'esito contrario ad una prima inchiesta, si sospetta che l'imbarcazione possa essere stata colpita, per errore, da un sommergibile o da un altro mezzo militare impegnato in quel tratto di Adriatico in un'esercitazione o in un'operazione di guerra. Ipotesi non accreditata dall'indagine archiviata il 17 dicembre 2001. Il Francesco Padre sarebbe scoppiato per l'esplosivo trasportato a bordo clandestinamente. Non sarebbe stato così, invece, secondo i parenti delle vittime. Giuseppe Panzini, Saverio Gadaleta, Francesco Zazza, Mario De Nicolo e Luigi De Giglio. I familiari di quest'ultimo, attraverso i legali, hanno chiesto alla procura una nuova inchiesta per far luce su quanto accaduto. Il procuratore Carlo Maria Capristo e il sostituto Giuseppe Maralfa chiedono al GIP l'autorizzazione all'inchiesta bis. Il parere favorevole dell'ufficio inquirente non è però vincolante per il GIP, che è l'unico che può decidere la riapertura delle indagini. Nel 1995 il caso Francesco Padre fu coperto dal segreto di Stato. Sospetti toccarono addirittura la Nato. Se il GIP desse via libera all'inchiesta bis, la procura potrebbe prevedere, tra l'altro, il recupero completo del relitto e interrogare l'allora ministro della difesa Cesare Previti, secondo cui il 4 novembre nella zona della tragedia c'era un sommergibile a proporzione nucleare della Nato.